Può raccontarci qualcosa del progetto di CBOX che coinvolge i giovani curatori digitali? Sì, il progetto di CBOX è un progetto Erasmus Plus, Cooperation Partnership in Higher Education. Quindi il suo target group sono studenti universitari di vari background, perché il partenariato raccoglie archeologi, i nostri ingegneri ed architetti, studenti di informatica e studenti anche di archeologia, ma più orientati già al digitale perché studiano al Cyprus Institute of Technology. Il progetto appunto si intende per generare un incremento di competenze all'interno del panorama della formazione formale superiore per colmare questo gap che storicamente si è creato tra le discipline più umanistiche e quelle tecnologiche. Quindi dotare queste persone che si affacciano al mondo del lavoro, perché la maggior parte degli studenti che sono stati coinvolti nel progetto sono studenti prossimi alla laurea, e dotarli appunto di competenze che tengano insieme la parte umanistica e la parte più tecnologica del digitale, generando una figura professionale di progettista che possa effettivamente orientare le scelte anche all'interno dell'istituzione culturale, ma anche essere dotato di competenze pratiche e poter sviluppare progetti di design curatoriale.